Durante l'intervista di novembre avevamo parlato di un nuovo album con l'immissione di nuove sonorità elettroniche e in che direzione procede il progetto? Allora intanto ciao a tutti come procede? Procede bene allora siamo diciamo metà strada e abbiamo per ora registrato sei pezzi stiamo lavorando ad altri diciamo sì che c'è l'elemento elettronico ma stiamo comunque mantenendo pezzi variegati tra loro nel senso che c'è comunque magari la lullaby come li avevamo negli altri dischi però con magari l'elemento elettronico e poi ci sono anche i pezzi quelli più cazzuti diciamo quindi diciamo che sta andando così. Benissimo benissimo e niente in 16 anni di attività il nucleo fondatore costituito da te 16? Cazzo! Sì dal 2008 giusto? Sì non ne ho mai contati c'è sempre una prima volta. Il nucleo fondatore costituito da te e da Dario Lucchesi è sempre stato il centro attorno a cui hanno orbitato vari musicisti ci vuoi raccontare un po' di questo duo alla base dei New Candies o come vi dividete il lavoro? Allora beh è cambiato poi negli anni soprattutto devo dire sta cambiando adesso perché beh Dario è passato dalla batteria al basso e inoltre è anche cambiato il modo di comporre nostro proprio come processo creativo prima eravamo all'inizio eravamo una band da sala prove come tutte le band agli esordi poi questo elemento è venuto meno è iniziato più una scrittura a casa con coi programmi eccetera per arrivare adesso dove anche la distanza fisica perché io sto in provincia di Treviso sto a Roncade per dire Emanuele e Francesco stanno a Conegliano e Dario sta a Padova inizia a essere una distanza notevole anche per trovarsi e fare le prove e quindi funziona che lavoriamo in remoto e questa cosa qua sta personalmente e anche parlando con Dario ci sta stimolando rispetto al processo creativo che avevamo prima perché è un modo nuovo di scrivere quindi ci mandiamo delle idee viene fuori da cosa nasce cosa e in questo senso è cambiato il rapporto tra me e Dario nel senso che stiamo lavorando in questo senso poi dopo ovviamente c'è anche Emanuele e Francesco che si sono aggiunti e io poi con loro mi trovo più spesso in sala prove dove proviamo un po più alla vecchia i pezzi un po così quindi vi trovate bene in questa dimensione a distanza rispetto che ne so a una gem o qualcosa del genere sì direi di sì direi anche perché adesso che mi 15 16 anni ha senso dopo 16 anni non hai più voglia proprio te lo dico tranquillamente anche perché poi non è un processo personalmente non è più un processo stimolante e anche per la limitazione degli strumenti perché hai la chi imbracci la chitarra i tuoi compagni imbracciano i loro rispettivi strumenti principali e magari invece il pezzo che vuoi fare necessita del sintetizzatore piuttosto che della drum machine e lì per lì non ce l'hai perché ti devi limitare devi forzare il pezzo se ti chiama ad utilizzare altri strumenti lavorando in remoto queste dinamiche la levi e riesci subito ad andare nella direzione finale che che il pezzo vuole alla fine tutto è sempre al servizio del pezzo non è servizio della band diciamo questo è un processo più diretto diciamo sì ok e niente la ai dischi sotterranei alla festa dei dischi fuori intervista avevamo parlato un po' del mitico aneddoto dei live a chi xp non lo so vuoi parlarne un po adesso davanti ai microfoni come è nata questa opportunità e come l'hai vissuta questa esperienza allora sì beh era il primo tour americano molto 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 diy e noi il disco lo avevamo spedito il cd alla radio senza essere cagati poi avevamo il destino volley che che ci buccarono a seattle per un festival che è un festival locale c'è solo di band di seattle tendenzialmente però noi eravamo in quel periodo lì in quella zona d'america quindi ci hanno detto a vi chiamamo ci hanno chiamati a suonare questo festival lì la radio allora ci ha ascoltati e due giorni prima se non sbaglio ci ha scritto noi eravamo già negli stati uniti avevamo fatto new york e poi volavamo nella west coast per fare il resto delle date facciamo solo new york west coast e lì quella volta è stata la prima data della west coast con quegli strumenti musicali che si vedono nel video perché li abbiamo presi il giorno prima quindi le chitarre eravamo indorse cioè ci avevano dato gli strumenti un marchio di chitarra americano per risparmiare ci avevamo fatto questa partnership niente è stato figo poi mi fa specie in italia spesso capita che viene qualcuno e ti dice avvio scoperti su kxp e io mi domando come fa un italiano a scoprire una band italiana su una radio americana quando in italia suono da dieci anni in più rispetto agli stati uniti forse anche di più adesso non li contati e questa cosa un po mi fa pensare si fa pensare fa pensare e passando a un tema un po più generale possiamo dire che siamo in un periodo in cui la libertà di espressione è fortemente condizionata da operazione anche di censura sia nell'ambito politico artistico anche in generale culturale e quindi musicale e sapendo della vostra esperienza fra internazionale nazionale eccetera anche ora che siete ritornati coi dischi sotterranei una dimensione più locale come se avete notato una differenza fra questi mondi riguardo a questo argomento oppure se è un'opinione a riguardo rispetto alla censura dici nella musica ma ti posso dire che magari rispetto ad anni fa quando personalmente quando mi devo approcciare a un testo questo magari una volta poteva esserci mi sentivo forse un po più libero se devo essere sincero di usare metafore perché alla fine questo è utilizzi simboli secondo me almeno utilizzi simboli immagini non è che sei letterale non è che vuoi fare un discorso come lo può fa un politico cioè non è che devi dire alla gente quello che deve fare è sempre un testo artistico e va preso così va preso con le pinze come è giusto che sia e nel momento in cui inizia a esserci censura nell'arte secondo me cozza non dovrebbe esserci così tanto poi ovviamente ci sono i lati anche positivi adesso censura ce ne sono di molti tipi magari mi faccio un po più riguardi rispetto a quello che posso dire su un testo quindi mi ha influenzato sicuramente per alcune cose in positivo per altri in negativo secondo me ok ok siamo in chiusura e niente un po come avevo chiesto l'altra volta se hai dei consigli da darci musicali cosa ascolti ultimamente album imperdibili diciamo sono la persona meno adatta a rispondere questa domanda perché non ascolto ascolto molto poco se no qualcosa che sta influenzando la scrittura musicale ma guarda ti direi sì ma ti direi il cinema io preferisco il cinema di più alla musica personalmente per quanto riguarda l'ispirazione soprattutto personale perché magari dalle immagini ti vengono in mente ti può far nascere un testo ti può far nascere una sensazione che poi si tramuta in canzone ma io ti direi i classici siccome siamo italiani mi piace citarti i cineasti bravi nostri come fellini o bertolucci ecco diciamo loro due fra le ultime uscite cinematografiche cinematografiche c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente? povere creature si chiama? quello dagli dagli non c'è male e niente non vediamo l'ora di ascoltarvi dal vivo tra poco al second stage qua del festival di Sherwood e siamo intrepidi figata grazie grazie